e pura vita ragazzi benvenuti nuovamente su robocop rogue city continuiamo questa avventura dove l'abbiamo lasciata nell'ultimo episodio stiamo andando al mattatoio non più a quanto varie un secondo obiettivi come obiettivi vari ti risotto contro la tua ronda cerca gli indizi eventuali infrazioni come disturbo della quiete pubblica tradizioni altre ultime onori puoi camminare puoi camminare sanzioni e mettere avvisi per far rispettare la legge ma le decisioni che prende si repercutono solo più le cittadine quando ah ok ce ne hanno di te ok tu mi stai dicendo che io dovrei girare tipo per in giro qui ok facciamo il mattatoio forse un po' più rapida la cosa lo farei ma così direi che non ha senso però vi stia facendo la serie ragazzi come al solito se è così lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale ok ok no need for alarm becker's chip is keeping my circuits in check you're more than just circuits murphy underneath all that metal there's still you è quello che mi ha detto Alex Murphy è morto, ha perduto la vita e inoltre a questo spazio, continui a continuare tu hai fatto più per questa città morta, che qualcuno ha vivo questo deve valutare per qualcosa ah, ora sto fermando prendere questo piccolo qualcosa per ricordare cosa ho detto come dicevo, apre la prossima volta che Becker si arriva sotto le pezzi anche, non dimenticare che hai un partner che si tratta di te abbiamo un punto eee, un punto concentrazione ora doppie punti fedeltà evidenza le opzioni di dialogo favorevoli eh, seduzione scansione vediamo i proiettili di rimbalzo si spezzano e colpiscono più nemici io direi che concentrazione il punto si sembra deserto sei sicuro che il tuo amico di junkie non abbia mixato le campi? è il tipo che piace di mixare le cose lo dovremmo vedere orlo da ruba così a caso eh, sono fortissimo è una trappola palesemente anche sii stai calma maniculata ragazzi stai calma stai calma una parte identità falsa l'orlogio rubato qua c'è gente morta secondo me perchè a quanto pare stiamo accendendo al nuovo impero di narcotraffico nonostante è una trappola secondo me ah è l'odore del mattatoio chiaro perchè è un mattatoio lo sai che è una trappola vero Alex? è lui se scusa Alex sono io ah forse gherkin pickles sì ma non è musica dai ok credi bene giusto giusto che cazzo che cazzo fai ma 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 mi mi e Murphy abbiamo trovato un lab di nuke di torche nel vecchio già questi hanno un laboratorio qua tranquilli lutiamo quello che c'è da lutare peccato mi hanno tolto eppah eppah già che ci siamo che ce n'è una gratis direi che la utilizziamo tranquilla non non ma gradito ah Firenze Firenze Qualcun altro? Te lo scoppio lo stomaco vediamo Qualcun altro è curioso? Si Ciao E tu sei l'ultimo No no calma non ho finito Tutti i punti che si possono fare li dobbiamo fare Luis calma Ah quello non lo posso fare Eh droga no Devo scendere che mi pulo giù visto che ci sono i circuiti Qui Oh la Spettacolo Permesso eh Ma c'è roba Ma c'è roba E' il dubbio C'è una macchina Ci sta per stirare C'è roba C'è roba C'è roba C'è roba C'è roba Ora si so no C'è roba C'è roba C'è roba C'è roba C'è roba It's gonna go BOOM! Ti ho visto, tranquillo! Aia! Ma... Calmi tutti adesso eh! Dammi questa! Che è questa? Scura gratis, ma sempre bene! Beh, bastava dirlo... Ok... Va bene... Trova a sud e quindi io devo stare in questo livello, dici? Ok, allora tu mi dici di andare lì e mi sembra un ottimo posto per andare... Porto questo! Buongiorno! Si può essere che siamo avvicinato... Pistola, tientela! Sì! Ho visto! Vediamo se si può fare... Eh... Buggiamo un po' il gioco, perché no? Ragazzi? Allora, se me lo tiro da solo non succede niente... Buono a sapersi... Allora... Sì. Se una robetta! Che te ne fai che cazzo più sia qua... La bocca... Poi te ne fai che cazzo più sia qua... Disco Ball ha deciso di sottolineare noi, ora il vero show è iniziato a subire, se sei un vero torcchio, scendete quella madre f***a tin can fino a che f***a ritorna, e io prendo questa opportunità di moisturizzare queste vocali giuste, ma resta proprio lì, tutti! No, come rimanete, si uccide tutti, non lo riguarda, non per tutti eh? Ah, giustamente, colpa mia, Torric. Eh, non so che sono i miei, ma non so che sono i miei, ma non so che sono i miei. Ah, canta in playback, perchè sta ancora suonando qua. Dai sott, vieni, che ne ho per te. Da un si fa. Quella non se l'aspettava. Chi? Cosa nascondete? Ok. Mi grattavo l'occhio, scusate. Ehi. Sembra quasi più efficace non mirare, vi dirò eh. Sì, sì. Ehi, celebri. Chi sei? Non so ancora cosa siano questi eh, ma me lo spiegheranno. Amico? Non correre. Ti troverò, sai, non capire, non andare troppo distante, sai. Sì, sì, ciao. Questo non può essere. Ho avuto tutto in linea perfettamente. Devo parlare. Stai ridotto. Tu non puoi toccaremi. Io faccio negoziare con il ragazzo nuovo. Hai sembra di sapere molto di lui. Tu non stai capendo nulla da me. Hai saputo quanti uomini che ho ucciso? Non mi preoccuparti di te. No. Inoltre, mi sono pienso di nuca come un poverso di potenza. Ehi. 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 No? Ok. Ehi. 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 Non ho scoperto! Ti amico! Non ti preoccupare, adesso ti smotto tutto il negozio Ahah Scrappi tu, bambino! Questo non è un modo di trattare una persona famosa! Questo è sufficiente! Bambino! Io parlo! Lois ho il sofferto Il è pronto per daremi una condizione sulle loro Il ragazza di che mi ha detto di che un uccionista Non ti piace direttamente dal suo uccionista? Onde è il Lois? È in fuoco, all'interno con me Abbiamo una voce amica Noi abbiamo una cosa migliore Comunice di amici Perchè non ti prendi la mia esterna E noi ci siamo Non so Me l'immaginavo un po' diverso come cosa Ma ok Effettivamente non è Batman lui Ma dove cazzo Ah ecco Andiamo coglione Ah ecco Ecco perché fa playback Perché è meglio se si dedica a fare alto Nella vita No Che è successo Che sta succedendo Sembrierebbe di sì Ok Ok Eh non so cosa sta succedendo Sto laggando Un secco Ma 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 sta succedendo Adesso gli spari Che cosa sta succedendo Che cosa sta succedendo Ah, mi sa di sì. Era ovvio. Ma ha fatto qualcosa a lui? Che succe. È quello che ci ha fatto diventare Robocop? Eh già. Grazie a lui, hai già dato questa grande opportunità. Cosa ti faccio a lui? Ci sono persone che farebbe qualcosa per essere in vostra posizione, per avere vostri capacità. E ancora, tu ti attacchi a qualcosa che è la più forte in te, a la parte che è ancora umano. Alla canta, non lo so. Come la mia, non c'è un attacchiamento, non c'è un attacchiamento. Io ho admito, quando ho mai sentito che tu era la ragazza che il mio figlio è morto. Io sono fiori. ma poi ho capito a pensare perché mi lascia qualcuno avere un po' di me quindi mi lascia e ora sono qui per aiutarti a te fare lo stesso non questo non è un attimo un attimo l'ho uccisa? un dramma ah mi ha lasciato lì con lui lui oh robo calma si 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 modif si 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 a therapy session in any way I need everyone that isn't my client to leave. That is not negotiable. And is it necessary to have him restrained? That's for your safety. What if he loses control? Exactly. If anything goes wrong, just use this reset button. One press, and he goes back to La La Land. Okay, let's leave the good doctor to work. And Robo, see me after this is over. I'm sorry it has to look like this. Are you at least sitting comfortably enough to have this conversation? My partner was shot and I need to find the person responsible. You do. But I think you'll agree that you should be in the best shape possible to undertake that task. I understand. This is not an ideal situation and this is probably the last place you want to be right now. I'm not the only one unwilling to be here. Your heart rate is above 120 BPM. You're equipped with a heart rate monitor? I imagine it comes in handy in your line of work. Yeah. It does. I agree this whole thing is happening rather fast, but we are both professionals at helping others. So how about we start again? My name is Dr. Olivia Blanche. Naturally, I've heard people refer to you by different names, but I'm curious to hear which one you prefer. Alex Murphy. My name is Alex Murphy. Then I'll call you Alex Murphy. I've worked with many police officers that have gone through traumatic experiences. Mm-hmm. But I think we can both agree that you are no ordinary police officer. How do you see your situation? Come descriveresti la tua situazione? Eeeh. Sono un poliziotto risorto. Risorto. I'm a police officer who was killed in the line of duty. I was given a second chance and resurrected inside this metal shell. Clinical death and waking up in a body that is not quite yours is a first for me too. In a patient, that is. But that's something that I've already learned from the reports. What I would much rather hear is how do you perceive yourself? Perceive? Yes. See, what I found immensely helpful in working with my patients is transparency. In order to help each other, we need to be able to see each other fully. Okay, cosa vuistopiare? Sì? Questo sono io. E questo che volevi, ti avevo avvisato. Questo sono io ora. Non la vedo finì. E questo non è sicuramente mi riconosciva come un ufficio. La mia mano era rosa, un po' dopo. Dopo quel giorno, mi sono diventata, diciamo, un po' di macchina. Hai scoperto me? Mi scoperto la nonpredicabilità che le macchina portano con loro. Quindi quando ho scoperto che c'era una possibilità di contribuire a la ricerca sulla stabilità dell'unità di OCP, ho scoperto la possibilità. Spero che non trovi che non trovi, non trovi. Che cosa che ho scoperto, mi riconosciva un po' più meglio. Cosa cosa che hai scoperto ora? Seguro che la città di sotto 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 di sotto. Vedi, non solo ho imposto di sotto di sotto di sotto di sotto di sotto. Ho sprappato quello che ho sprappato perché sembra che funziona. Ho credo che questo mi permesso di farlo molto promisivo. Grazie, Alex Murphy. C'erano altre due missioni in giro Ok Vabbè tranquilli Hai trovato Hai scoperto tutte le connessioni del proprietario della sala giochi Hai trovato il biglietto d'avvertimento Oh no ho trovato un cazzo Effettivamente Me ne vado eh Un momento Due puntini Possiamo mettercene uno a concentrazione Sì E direi che potremmo iniziare a metterci ingegneria Cosa fa? No ingegneria Abbassa la soglia di successo dei personaggi principali Non so cosa vuol dire Questo mi sa che potrebbe essere comodo Solo per salire di livello prima Ma io voglio capire Niente Allo fatto Robo C'è qualcosa che ho bisogno di mostrare Anche ogni processore Può migliorare la tua attività Il problema E la stabilità Guarda per te Dai 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 Che ricco Molto bene Inserisci un chip di slot In uno slot vuoto Della tua scheda madre I chip hanno diversi tipi di connessioni Dividi I potenti Rossi come i riduttori Ah ok Non me premi nessuno Come premi nessuno Ok Ho fatto un parto Ma ce l'abbiamo Allora Ma aspetta Ok Posso arrangiarmi adesso? Posso arrangiarmi adesso? Ah ah. Plani d'arma di fuoco. Questo cos'è? Aumenta la quantità di effetti visivi gore. Spara colpi continui quando premi il grilletto. No. Ti 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 ti. No eh. Ah posso fare così però? No neanche. Neanche. Ah perché devono essere elchi. Ah aspetta ho altre forme però. Tutto e sopra. Qua aspetta aspetta aspetta. Tutti. Dobbiamo cercare il più comodo qui sarebbe. De sinistra. Questo sarebbe il più comodo qui. Esattamente. Poi. Ci serve uno in quella forma lì. Ce l'ho. C'è questo che è spettacolare. Su giù destra. Su giù destra. Omni. Su giù destra. Omni mi sa che sarà il top qui. Aspetta però. No allora no. Qua vuoi. Ah ma se va su prende. Vediamo subito. Deve essere. Vediamo così. Non capisco però. Ma non vuoi la pena. Quindi scusa diretto così. Cosa vuol dire? Non c'hai dove prenderlo. Quindi serve. Giù. Destra. Così non piace un cazzo però. Così abbiamo. Allora qua ci serve che vada solo giù. Così abbiamo capacità del caricatore 14%. Ma se c'è qualcosa di meglio. Ho senso così. Vero. Se io faccio così. No perché non si può prendere. Se faccio così invece. Ah va per forza lì. Mi piace un cazzo però. Questa roba. Aumenta la quantità di effetti visivi. Tt. Ma se io metto qualcosa qua. Che vada solo su. Cosa succede? Poi. Tipo sì. O qua metto questo. E qua metto tipo così. Prende tutto. Ma ne vale la pena o no? È la domanda. Cioè se io faccio tipo così. Perdiamo solo danni. Mi sembra a me. Lasciamola così. Lasciamola così ragazzi. Che almeno. Andiamo sul sicuro. Teoria. L'arma dovrebbe essere un po' più forte adesso. E basta no? Che è che vuole parlarmi? Arrivati. Questo? Non sta dormendo. Lo vedo che. Ah. Questo sta giocando. Permesso. Hai un minuto? Dimmi. Hai detto Lewis? Sì. Mi e un po' di ragazzi abbiamo deciso di signare questo card per lei. Vorrei firmare il biglietto. Si ho... E beh sì difficile Allora Allora Chi è che deve firmare? Questo? Come non corrisponde? Oh, tu? Tranquillo, firma qua E non romper il cazzo? O anche? Non parlo su niente La mia signatura di caldo riconosce che il luogo è freddo. Tutti tutto bene, Officer Gertz? Oh, ti pari? Sì, credo che ho restato qui più tardi che avevo avuto. Ho una carta per signare. È per Lewis. Mi piace signare, ma non voglio farlo. Sì, scusa, tu vai nudo in giro. Merda. Tutto bene. Cazzo hai messo l'asciugamano, questo? Ma... Asciugamano giallo. Cazzo vuoi? L'unico là che non c'è? Ah, eccolo. Abbiamo anche due punti da mettere. Un po' di giro. Un po' di giro. Ma un minuto? È certo. Grazie. Grazie a me se si trovi che c'era una carta per Lewis e non sapeva di signarlo. Spero assurdo che questo succede. La piazza è il giù. Questo è il giù? Eh. Poligono di tiro, poligono di tiro. Oh. Firma qua invece di rompere il cazzo. Oh, signore. Sembra che tu sia scarse, basta sai. No. Il giù è il giù. Il giù è il giù. Il giù è il giù. è difficile c'è qualcosa che posso fare per te? tu puoi signare questo card di Gettwell per Lewis sicuramente c'è lì quasi tutti sono già qui ci dice molto sull'impatto su tutti noi c'è solo una persona missing il Sgt. Reeve è nel garage ah firmerà non ti preoccupare ci penso io che firmi il merda cosa vuoi tu adesso? so sto qua apposta eh sì siamo una famiglia tu dovresti signarlo tutti è già qui Lewis? ha fatto un impatto abbiamo bisogno di trovare le persone che hanno fatto questo questa è la mia intenzione certo, guarda il card lei dovrebbe ottenerlo da te grazie Murphy prego grazie grazie andiamo a farci dire su adesso va direi che è ora di prendere parolacce grazie per questa opportunità Mr. Becker è questa tu sei molto determinato io dovrei aver visto l'applicazione come 20 volte per i prima che sono che si 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 Non è vero, non è vero. Tu è persistente e capabile, anche. Con i testi più alti più alti. È quasi un candidato ideale. Ma quattro dal fatto che non ti metti alcune delle requisite fisiche, è davvero meravigliosa. Cosa cosa. Non è vero, signore. Perché essere un copo è così importante per te? Il mio padre era un ufficio polizia, e il suo padre era uno, anche. Un ufficio polizia, eh? Deve essere un'esercizio non poter continuare una tradizione famiglia. Sai, ho il potere di guardare la altra forma e renderti un copo, inoltre i vostri... ...sortimenti. In intercambio, solo chiedo di una cosa. La vostra loyaltà completa. E magari un po' di gratitudine, anche. Ti prenderò un badge? Come un ufficio polizia? Un badge? Oh, sì, sicuramente. Sì, l'Officio Washington è riportato per duty. Buongiorno. Ecco. Ecco qua, young'un. È... È l'esercizio? Non facciamo un badge per ogni nuovo ufficio, solo facciamo i vecchi, dopo che i copi... ...sortimenti. Oggi matiamo. Robocop. Sono un fan di grande. È bello, perché ci saranno molto tempo insieme. Cosa significa? Un spagadile di boccia... ...l'esercizio di diritto. Un spagadile di boccia. Un spagadile. Un spagadile. La boccia è il suo lavoro. Un spagadile. Un spagadile. È un spagadile di buccia. È un spagadile. È... Non, signor. Voglio continuare con la mia investigazione, ora che sappiamo che il nuovo è Wendell Antarnowski. È un spagadile d'oro ancora sui cosa che ho parlavano? no assolutamente non, sei fuori il caso in realtà, sei fuori tutti i casi c'è un sacco di documenti che bisogna archivare in la sala di registrazione questo è la priorità di te ora capito ora andate, vorrei dire a Achilles su quello che è quello in questo posto di Dio è Ulysses, signore hey, la prima regola, figlio, non preoccupi i vostri amici pistola, no, pistola, pistola spara, spara, uccidi, aspettato stavo dicendo puntino di concentrazione e dicevamo questo per i per l'esperienza a breve dovrei fare il terzo il terzo punto che mi serve dobbiamo andare giù perchè è un labirinto sto posto? siamo giusti almeno? sì, no? sì, sì, siamo giusti vedo 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 Buon lavoro per te. Io vorrei che abbia qualcosa di più divertente per te fare, perché per me questo è lì tutta l'azione che succede. Entendete. Con questa città di informazioni a te finti, questa sala di ricordi dovrebbe essere un piacere di attività reale. D'autres non sembra che sia divertente per aver guardato tutto questo. Tu puoi giocare un detecco reale. Officer Cecil, sei un detecco. Sì, ma ma solo un piacere. Quindi, se qualcuno vuole trovare la qualità di un città particolare, cosa farebbe? È semplice. Prendete il computer in l'interno. Prendete in chi vuoi trovare e vedete se ci sono alcuni. Prendete a scannare i servizi a qualche punto. Mr. Becker potrà farlo se non mi rende sicuro che tu avessi. È funzionato perfetto. Ti fai fare tutti, mi vuoi dire? Eh dai. Vorro duro questo. Sto detetendo una malfunzione. Eh? Questo non sembra certo. Questo servizio è compromesso. Io faccio le mie cose, con permesso. Eh... Eh... Ah. Posso solo fare fascicoli, mi sa. Certo. Certo. È difficile da credere. C'è un'intervista che puoi provare. Vedete chi ha tentato accettare il file prima di te. Potremmo ci aiutare. Certo. 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 Adesso. Ci mettiamo il secondo punticino qua. Qua. Ho detto qua. Ho detto qua. Qua. E basta. Oh. Certo. Grazie. Mh mh. Perfetto. Mi piace tanto. Lascia il distretto. Bene. Andiamo giù in, andiamo giù alla macchina ragazzi. andiamo qui alla macchina e come al solito ragazzi lo lasciamo qui e ci vediamo in un prossimo capitolo di Robocop Rogue City un bacione e alla prossima ragazzi ciao ciao